Sviluppare azioni sinergiche per realizzare una rete elettrica sempre più efficiente e digitalizzata nei comuni dell'Abruzzo. E' questo l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto a Tenamo tra Anci, Abruzzo e De Distribuzione. Si tratta di un protocollo particolarmente importante in quanto per la prima volta mette in rete tutte le parti con l'obiettivo di migliorare sempre di più il servizio elettrico, contribuire al successo e alla realizzazione del piano di investimenti previsti in Abruzzo. Un protocollo finalizzato a garantire la realizzazione del piano di investimento e di distribuzione sul territorio abruzzese nel tempo più rapido possibile. Dobbiamo mettere in sicurezza la rete del nostro territorio, un piano di investimento importante di 900 km e i comuni si mettono a disposizione. Anci Abruzzo ha voluto svolgere un ruolo di cabina di coordinamento e di regia attraverso un tavolo permanente che consentirà di prevenire anche le situazioni di emergenza, di semplificare le procedure, di aiutare i piccoli comuni e di anche affrontare quelle questioni legate ad esempio all'impatto sulle pavimentazioni stradali, alle problematiche degli usi civici che troppo spesso ritardano, interventi che sono fondamentali per garantire un servizio essenziale per tutti i cittadini abruzzesi. Con l'accordo sottoscritto oggi si va a rafforzare la collaborazione tra e-distribuzione ed Anci per dotare l'Abruzzo di una rete elettrica efficiente e digitalizzata, in grado di supportare il processo di transizione energetica in corso. Concretamente avverrà la costituzione di un tavolo tecnico permanente, un tavolo tecnico permanente che conferma la collaborazione strettissima tra e-distribuzione e Anci, che risale a moltissimo tempo fa, perché negli anni prossimo noi andremo a spendere su questo territorio, a investire su questo territorio, più di 280 milioni di euro per ricostruire 900 chilometri di rete, una rete che inevitabilmente deve guardare al futuro, perché l'elettrificazione dei consumi significa rete, la rete è un servizio essenziale e quindi è necessaria la collaborazione tra il territorio e la distribuzione per garantire le necessità di ogni territorio e una rete che deve essere sostenibile, quindi non può prescindere da ciò che le amministrazioni comunali necessitano.